Ciao a tutti ragazzi, sono Orcuverde, in questo video vi farò vedere il nuovo velivolo che Rockstar ha rilasciato questa mattina su GTA V online. Questo velivolo è il Piro, acquistabile sul sito Weirstalk Cash & Carry, ovvero il sito militare, al prezzo di 3.350.000$ il prezzo scontato, mentre 4.455.500$ il prezzo standard. Questo velivolo è un velivolo a due posti, le modifiche che si possono applicare a questo velivolo sono le armature, le contromisure, i motori, possiamo scegliere il tipo di manovrabilità, poi ci sono 11 livree, poi come sempre le verniciature ed infine le armi. Come arma possiamo applicarli i missili guidati al prezzo di 195.000$. Pilotando questo velivolo devo dire che ha delle ottime prestazioni, sia riguardo la sua velocità, sia riguardo la sua agilità, in quanto è molto agile e veloce. Però cazzarola, il problema di questo velivolo è il prezzo, perché nonostante questo velivolo a me piace un sacco, come anche riguardo alle sue prestazioni, non vi consiglierei mai di spendere tutti questi soldi solamente per un velivolo, che magari utilizzate giusto un paio di volte e poi lo lasciate a prendere polvere all'interno dell'hangar. Vi consiglio di acquistare questo velivolo se siete amanti degli aerei e soprattutto se avete i soldi. Comunque lasciando stare il prezzo, questo velivolo a me è piaciuto. Nei commenti sotto questo video vi invito a scrivere anche voi un vostro parere, una vostra opinione riguardo questo velivolo, se l'avete provato, se vi è piaciuto e se l'avete acquistato o meno. Nella descrizione sotto questo video lascerò il link del video che ho caricato qualche settimana fa riguardo i prezzi dei velivoli e veicoli che usciranno ogni martedì nel corso di queste settimane su G35 online. Se non l'avete ancora visto vi invito a darci un'occhiata. Quindi niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando lasciate un bel pollice in su, un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video e da Orku Verde a tutti noi ci vediamo al prossimo video. Bella!